Ciao a tutti bentornati su Antimeta, siamo il Lorenz. Che robe? Oggi abbiamo una Collector Booster Box di Teros oltre la morte. Allora il buon che robe, come ce li dividiamo? Ce li dividiamo con un bel picco. Abbiamo 6 buste per 2,12. Ne dividiamo di prendercele con la bella vendata. Quindi prenderò questa. Io questa. Questa, questa, questa e questa. Tutte le mitiche se le hai tra il sicuro? 2,3,6. Ma no, ci sono divise equamente le mitiche. No, la scorsa sfida la vinta te. Io sono sfigato con queste cose a metà. Allora, Nightmare. Ah, c'è il token. Ah, l'abbiamo aperta con il token doppio. Poi sono dietro. L'eroe dei giochi. Oh, la palude foil. Che ne ho già un'altra. Memory Drain. Oh, l'homen, bello. Forreste foil. Anax. Un'altra forma. Oh, mio Dio, bellissima. Ashofforn, Sir. Oh, mio Dio. Quando diamo male la prima? Serpente. Janindetz. Che cazzo fai? L'abbiamo trovato una fuori serie, mi sa, entrambi. Sì, sì. Una fuori serie questa? È sì, quella di una carta dei mazzi, mi sa. Ah, vabbè, tanto non lo so. O delle buste speciali Full Art. Ah, ma guarda. Il Tempio, ti è andata meglio che a me. Il Tempio Full Art. Ma che figo. E io ho trovato il Tempio Foil sotto. Te hai trovato una cosa costellazionosa. No, il Tempio Foil anche te. E? Ah, Purforos. E Renata. Tu Purforos. Oh, mio Dio. Ashofforn, Full Art. Che schifoso. E ne siamo venuti. Che schifoso. Oh, mio Dio. Cazzo. Che schifoso. Questo è figo. Molto figo. Figo e basta. Sono già contento solo con questa busta. Eh, io ci ho trovato... Eh, adesso mi manca solamente Esper. Allora. A meno che non sia tua, Adam. Ah. Espetta, adesso ne trovo un'altra. Ne hai già due? Eh, ma sono entrambe nella collezione. Ah, perché tu se ne tieni quella normale, tieni quella... Eh. Foil... Ah, Shop. Oh, quello del Planeswalker Deck. Ah, quello fuori serie. Molto bene. Molto bene. Vabbè, così è anche quello. Tutori di liaco... Tutori di liaco full art dovrebbe stare qualcosa, in teoria. Eh, sarà sicuramente carino. Eh, questo qua, Foil, vabbè, non mi piace. Anax. Cala... Calafe. Calafe. Daxos. E io Anax. Doppio Anax. Doppio Anax. Doppio Anax, però bella... Taranica, full artosa. Ah, quella è bella. Beh. Questo è un Turforos, e hai trovato... Quindi è ancora un Dio, però... Quell'Axio, lì, poveroso. Isola. Mi ha fatto piacere, ascio. Un'isoletta. Un'isola. Ah, un bel Daxos. Sì. Un bel Daxos. Forest, pianura. Demone. Taranica, full art. It, e tu... Ah, io ho trovato... Una specie di profettino, come dice, sorveglia. Sì. Esilia e sorveglia. In instant. Timalat. Ah, ma adesso si è andato... Io ho trovato un intervento. Anja. Anax. Su, si è andato molto oltre. Due Anax. Purforos foil. Oh mio Dio. Purforos foil. E' l'intervento di tassa, muy gustoso. Molto gustoso. Sono abbonato ai Purforos. Sì, io invece non ho trovato neanche uno di Purforos. Ma io mi sa che ne ho già... Hai già tre, mi sa. Tre, abbondanti. Zero. Se vorrei fare carità... Volentieri. Isola, montagna. Sì, la palude. Lidra. Ah, è il gigante. Che è quello lì delle Tembooster. Ma non è molto forte. Oh, ma infatti... Se tassa un champion... Oh, l'intervento di... Però... Full art. Stray, X-Targer, Artifact, Oranchantment... Game twice... Andre, guarda cosa sta sbucando lì dietro da me. Guarda cosa sta sbucando. Sì, sì. Ashok. Gira, gira, gira che siamo curiosi. Vabbè, Ashok... Sì, non è molto forte quello lì. Per i misocchi di Roast... Schifo. E cazzo. E quà abbiamo Clotis, Constellation. E un Timaret, Constellation. E un Timaret. Vabbè, io ho preso l'unico PV buono che c'era. Tu hai preso tutti gli dei. Aspetta, ci sono ancora due bus a testa. Eh, voglio vedere, anche due dei per te e zero per me. Non c'è mica tanto da fare. Zombie. Te sei l'unico qua che adora Teros. Sono l'unico devoto agli dei. L'unico devoto proprio. Che dà devozione agli dei. Isola. Espes, Devote. Eh, insomma, questo qui non è mica male, eh. Quando entra in campo di battaglia, ogni avversario mette le prime dieci carti nel Grimorio. Ho già capito che vai in quel mazzo schifoso. Vai in amminatore questo. Natar di questo. Che schifo. Un tempio. Quello lì, chi cazzo è? È quello che ogni, quando tappi un permanente per le manate, te lo triplica. Ah, te lo triplica? Sì. Figa. E full art, oltretutto. Ah, figo. Clotis foil. Un altro Ashok. Clotis foil. Un altro Ashok, però non foil. Ho l'abbonamento agli Ashok. Clotis foil. E Renata. Renata. Niente, io sono fortunato a PV questo giro. Mamma mia, ma che bella che è questa Clotis foil qua. Mamma mia. Cioè, aiuto. Oh, ma neanche un Dio, eh, però. Questa cosa qua non mi piace. Tu vuoi i playswalkers di solito? Sì, ma anche le idee non sono male. Cioè, sono belli da collezionare anche. Con la constellation è molto carina. Allora. Isola. Valone. Oh, Atreo. Cazzo, quello mi interessa. Ah, un Dio che vale 4 dei tuoi dei. Mantle of the Wolf. Sì, uno schifo. Questo lì cazzo è una fuori serie, no? Mixed Lotus. No, quello lì c'è nelle buste normali. Schifo. Oh, Mixed Lotus foil. Ah, bravo, bello. Mantle of the Wolf. Non è gustoso. Dimaret? Ho trovato, mi sembra, qualcosa di bello. Sì, un'altra Renata e solamente i semi-day. Anax. Solo i semi-day trovo. Anax e Timaret. Vabbè, dai, un Atreo che si poteva trovare solamente qui o come... Vabbè, con non foil si trova solo qui. Eh, sì, non foil solo qui o sennò come pre-order foil, come pre-order per il box normale. Allora, vediamo, facciamo un riassunto delle cose belle trovate. Le cose belle... Definisci cose belle. Le mitiche. Le mitiche. Allora, mi sa che hai vinto te, Lori. Le mitiche ne ho trovate solo tre. Qui c'ho doppia Clotis, il gigantone poderoso, Purphoros foil, costellazione. L'ho trovato anche io, ho trovato anche l'Ashock d'amazzo. Sì, tu hai trovato l'Ashock d'amazzo. Io ho trovato due volte Ashock, una volta foil e una volta no. Una doppio Purphoros. Eh no, le mitiche ne hai di più te. Eh, mi è andata... Però tu hai trovato quell'Ashock lì molto brillantinoso. Eh sì, dovrebbe stare anche qualcosa l'Ashock molto brillantinoso. Nullo. Eh, penso di sì. È anche figo. Molto. Molto. Però, eh, niente male, niente male. Eh, però questo giro lo vinci te comunque. Questo giro lo vi ho stravincola grande con sei mitiche molto poderose. Già. Bene. Bene, se tu sei interessato da tre, Lori mi sa che mi prendo un Purphoros e qualcos'altro. Addirittura, in più. Eh, poi dopo ne parleremo. Questo non ne trovi qualcuno di altri. Ne parleremo in voglia d'arte. Sì, concludiamo ancora questo video molto poderoso. Insomma, un po' più per me, un po' meno per te, mi sa. Eh, vabbè, dai, mi accontento. Ci accontentiamo. Ti prenderò l'Aspelat. No, 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 no. Grazie a tutti.